Castle Rotto è il suo maestoso campanile ed il nostro Alpenroyal situato a pochi passi dal centro storico. Benvenuti nel nostro piccolo gioiello nel cuore delle Dolomiti. Qui vedete mia moglie Monica che sta consegnando le tesserine per l'impianto Marinsen ai nostri clienti. Con questo impianto i nostri ospiti possono raggiungere gratuitamente un paradiso con parco giochi ed ampie possibilità per escursioni per noi adulti. Ecco qui la mia mamma Elisabeth che sta ritornando da una delle numerose escursioni guidate. Una piccola grappetta come rinforzo dopo le fatiche. Ora saliamo nelle nostre stanze arreddate in legno locale di abete. Ida è sempre disponibile ad avverare tutti i desideri dei nostri clienti e prepara le stanze con particolare attenzione ai dettagli. La veduta da uno dei nostri balconi verso il maestoso Sciglia, emblema dell'Alto Alige. Naturalmente anche lo sport non può avvenire a meno. La nostra piscina si adatta a piacevoli notate, dopo una bella rinfrescata si prosegue in sauna e dopo una bella sudata è gradita una doccia fredda. Anche nel nostro bagno turco potete rilassarvi dalle fatiche della giornata. Alla vostra salute! Chi non volesse usufruire dell'area wellness ha la possibilità di attivare i propri muscoli nella nostra palestra oppure ritirarsi sul nostro terrazzo o nella sala a caminetto per leggere in santa pace. Ora Urban, il nostro chef de cuisine, responsabile da oltre sette anni per la nostra cucina. Nel proprio orto, vicino all'hotel, sta raccogliendo verdure ed erbe fresche per preparare una cena genuina e saporita. Con l'aiuto dei suoi collaboratori, vivizierà con pietanze preparate con la massima cura, attingendo sia alla tradizione locale che alla raffinata cucina italiana. Poniamo particolare attenzione all'uso di prodotti da coltivazione biologica locale. A tavola, Michela e Efa soddisferanno ogni vostro desiderio alla insegna dell'assoluta qualità. Avete la possibilità di scegliere fra tre portate principali. Naturalmente, uno squisito dessert non può mancare, anche se noi, uomini, non vediamo l'ora di spostarci al bar per goderci un bel digestivo locale. Ed ecco me stesso, come vi servo una prelibata grappa di tradizione locale. Cin cin! Insieme alla mia famiglia vi aspetto per darvi il benvenuto. A presto! Grazie! Grazie!